Musica 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 Faccio il cinema Cioè? Cinema, televisione e produzione multimediale Ma è meglio stare in classe Stanza? Vado, dai Vado Vado Oh Ale Che c'è? Tutto a posto? Quando torna non li fa vedere te il resto della casa Come mai? Come mai? Mi prendi per il culo? Ma intendi il fatto del cinema? Si Giova, è il fatto del cinema Dai, magari Alberto non lo sapeva No, non lo sapeva Ma può darsi che Alberto non lo sapeva Ma si, infatti, sono amici, non lo sa Quando torna ci parli e chiarite Mi chiamano tutti buoni ragazzi Vado, vado, vado No 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 No